ciao a tutti amici followers bentornati sul mio canale da oggi dirò sempre amici followers non so perché mi piace bentornati sul mio canale come avete visto dalla copertina oggi è un video in collaborazione con una fantastica azienda italiana made in italy che è la new drum percussion io sono molto contento veramente fiero di collaborare con questi ragazzi che saluto domenico e francesca che sono fantastici ci sono particolarmente affezionato sia perché comunque siamo coetanei ma anche perché hanno una dedizione al lavoro e una bravura fuori dal comune sono davvero forti io mi ci trovo veramente bene sotto ogni punto di vista sono ragazzi fantastici deliziano tutti noi batteristi con delle chicche che ogni tanto sfornano sono partiti con i battenti poi hanno prodotto i pad allenatori poi hanno prodotto le varie catenelle io li chiamo catenelle o i blin blin da mettere sui piatti oggi siamo arrivati a secondo me la svolta perché perché sono arrivati alla produzione di un articolo che personalmente wow perché io da l'ho sempre usate perché le ho sempre usate perché ho sempre usato le varie sordine vari da ampere vari gel che si che si mettono sulla batteria no su ogni pelle quindi i vari marchi noti e blasonati il problema qual era che a parte duravano pochissimo perché si sporcavano e poi dovevi stare sempre a lavare non attaccavano più quindi l'affidabilità così così poi essendo comunque a base di colla quindi appiccicose andavano direttamente sulla pelle e andavano a stoppare la pelle senza la possibilità però che il tamburo respirasse quindi domenico il buon domenico cosa ha fatto siccome lui prima di tutto è un batterista e oltre che artigiano ed è sempre molto attento alle necessità dei batteristi è sempre molto informato perciò io l'adoro perché perché sta sempre sul pezzo no si informa chiede è curioso e cerca sempre la soluzione che possa aiutare il musicista a tal proposito appunto ha creato niente po po di meno che voi direte questa è una scatola sì ma le apriamo insieme e poi vi dico cosa ha creato la cosa fantastica cioè già il packaging è pazzesco quindi la cura anche se una semplice scatola di cartone però ha il suo perché vi arriva questa bellissima sacchetta nera appunto brandizzata con i laccetti chiuse dove non cade niente ma oggi cadeva tutto come era un'africa poi vi arriva il billettino da visita di new drum che dice cito testualmente grazie per aver scelto uno strumento new drum in cambio del tuo supporto ecco il 10 per cento di sconto utilizzare su www.newdrampercussion.com per i tuoi prossimi acquisti new drum family e altre cose poi ci stanno le mail eccetera già questo fa la differenza e poi ci sono adesivi vari da poter applicare sulla batteria se non siete purtroppo fissati come se siete fissati come me non ce li applicate quindi questo era un pacco aprendo il magnifico sacchetto ecco qui le ordine mi hanno mandato due sordine grandi e due sordine piccole che adesso vi illustro perché queste sordine sono pazzesche e mi hanno supportato perché una volta che io le vado a fissare e hanno pensato anche questo gli amici new drum perché hanno creato appunto questo ancoraggio con una vite tutto in ferro con una bella vite che si serra sul cerchio del rullante del tombo del timpano cuoio sopra con una bella serigrafia di new drum che si fa notare sotto troviamo il vellutino che va a contatto con la superficie del nostro tamburo quindi con la pelle e qui troviamo tre pezzetti di velcro che ci permettono di bloccare le estremità della sordina in modo da scegliere se usarne di meno metà o di più in base a quanto vogliamo stoppare il tamburo quindi noi la ancoriamo è una volta ancorata girando la vite una volta ancorata scegliamo se avere una sordinatura totale oppure una sordinatura parziale o diciamo minima in modo che ci sia meno superficie coperta il tamburo respira ancora di più quella cosa fantastica che sono molto resistenti al contatto con della bacchetta con la pelle la sordina si alza e si riabbassa ma è un micro movimento che non va a modificare il suono va semplicemente a smorzare gli overtone e le code fastidiose subentro un altro discorso le sordine non ti fanno suonare bene la batteria le sordine servono per togliere la coda o gli overtone la coda si e no però maggiormente gli overtone di partenza ci deve essere un buon suono di partenza ci deve essere una corretta accordatura una corretta nota tra le pelli tra i tamburi perché altrimenti non fanno miracoli con tutto che sono bellissime ma non fanno miracoli io personalmente ho scelto di usare la grande sul rullante poi sempre la grande la metto sul tom e cosa faccio una volta avvitata la ripiego in modo da far riprendere solo una porzione in questo modo e poi le due piccoline le due piccoline si possono usare tranquillamente sul tom sul rullante vanno a smorzare ancora meno le due piccoline ho deciso di usarle sul timpano mettendole una un lato e una un altro perché comunque voglio che il timpano respira però allo stesso tempo mi smorza quel magari overtone che si va a creare quindi io ne uso in totale quattro di due piccole sul timpano una 16 una sul tom da 12 un'altra sull'altra 14 dovrò poi chiedere ai amici di new drum amici di new drum di mandarmene altre perché adesso monterò anche un altro tom un altro timp sarà molto felice domenico di mandarmi altre sordine io lo so una recensione non è una recensione se noi questo prodotto non lo ascoltiamo non lo vediamo all'opera quindi io ho registrato qualche clip per voi e cerco di farvi notare la differenza io vi invito prima di lasciarvi il video a visitare i social di new drum perché nei rin trovate alcuni video dove vi parlano loro stessi di queste sordine e sono davvero divertenti vi lascio alle clip e noi ci vediamo tra poco grazie a tutti Grazie a tutti. 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 I video stanno andando molto bene. Grazie a tutti.